A Campi-Salentina, nella cittadina in cui in base al riordino sanitario l'ospedale è stato depotenziato e man mano la gente vede i reparti chiudere, 2 milioni di euro, precisamente 1.938.000 euro, saranno impiegati per la costruzione a due passi dalla struttura già esistente di poliambulatori. L'appalto è già stato assegnato. L'ospedale di Campi che viene ridimensionato, che si appresta ad essere chiuso con una struttura grandissima della quale sono occupati solamente a stento due piani, vede nelle immediate adiacenze, a poche decine di metri, nello stesso recinto l'inizio della costruzione dei poliambulatori per una spesa complessiva superiore a 2 milioni di euro. Mi pare una cosa oltre che illogica, offensiva nei confronti dei cittadini e di tutti quegli operatori della sanità che vedono difficoltà a trovare conferma nel loro posto di lavoro. La denuncia arriva nel corso di un incontro del Movimento Regione Salento con i cittadini di Casa Labate. La marina su malgrado diventata simbolo del Salento brutto, abbandonato e in cui la politica è stata assente. La marina su cui incombe la centrale di Cerano, in cui l'abusivismo edilizio ha fatto scempio della costa, in cui l'antica torre è diventata una pattumiera. Il mio impegno è quello di avere immediatamente un simbolo, attraverso quel simbolo si potrà poi procedere praticamente a tutti gli impegni presi. Quella torre che spero lei faccia riprendere dovrà essere ripulita e lo farò io con le mie mani insieme con l'avvocato Paolo Maci. Ma le cose possono cambiare, ne è convinto il presidente del Movimento Regione Salento. Abbiamo tante criticità da affrontare e dobbiamo farlo stando insieme e partecipando alla vita pubblica. Casa Labate è l'esempio di come la lontananza, la distanza rende le amministrazioni poco funzionali. Io ho sempre sostenuto che Casa Labate dovesse rientrare nell'amministrazione dei paesi più prossimi e più vicini. C'è da fare tanto, c'è un lavoro profondo da portare avanti, ma vedo che c'è molto impegno da parte degli amministratori di Trepuzzi e Squinzano. Mi auguro che possano risolvere almeno il risolvibile. Devo dire che ci sono alcune cose che difficilmente si possono sanare perché c'è questa speculazione di lizia, questo abusivismo che ha portato a un degrado inaccettabile. Purtroppo c'è anche questo nel Salento. Il lavoro da fare è proprio tanto. Grazie. Grazie.